Oggi in Edicola, Rassegna Stampa. Molte le notizie che troviamo sui quotidiani riminesi a partire da un aggiornamento sulle indagini relative a quell'episodio che ha gettato nel panico tante famiglie riminesi, un tentativo di adescamento di due ragazzine fuori da scuola, fuori dalle medie Bertola. E poi si continua ancora a parlare su un altro fronte della stagione di come è andata e della necessità che in particolare quest'anno ci sarebbe stata decisamente di allungare visto il bel tempo che permane. Ma cominciamo con uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere Romagna che apre appunto con la cronaca, l'adescatore a 21 anni, sequestrati pc e telefono. Alcune ragazze sarebbero state molestate anche lo scorso anno. La foto a centro pagina, si parla di inclusione, ecco la spiaggia libera a tutti, questo progetto per favorire l'ingresso in spiaggia dei disabili. E poi in taglio basso misano adriatico, ferita martellate, non è tentato omicidio, il gruppo derubrica il reato, inflitta la condanna di tre anni e tre mesi di reclusione. Una vicenda, un processo che riguarda una vicenda del luglio del 2022. In taglio alto ancora la cronaca giudiziaria, saluto fascista, ristoratore assolto. Ricorderete questa colorita vicenda, il giudice ha però deciso che la parte civile dovrà essere esercita a 2.000 euro. Un ristoratore che dovendo servire delle persone di colore si era rivolto ad una foto di Mussolini che aveva nel suo ristorante, chiedendo scusa al Duce per il fatto di doverli servire. E poi vi segnalo che c'è anche un articolo oggi sul Corriere che riguarda il tema dei vaccini, anzi un fondo perché c'è stata una sentenza che riguarda il giornale. Definire qualcuno negazionista non è diffamazione. Il Corriere Romagna aveva parlato, aveva definito negazionista una persona che aveva fatto dichiarazioni contro i vaccini. Ebbene questo appellativo non è stato ritenuto offensivo da parte del giudice. L'uomo appunto si era rivolto alla procura. La prima pagina del resto del Carlino e qui l'apertura è sull'alluvione. Nuovi aiuti dal governo dopo la ricognizione di Figliolo che è stato ormai diverse settimane fa in settembre, altri quattro comuni del Riminese riceveranno i soldi per la ricostruzione. La foto a centro pagina vi svelo chi erano i Queen. A Castel Sismondo gli scatti inediti di Peter Inns, storico fotografo della band. Lo vediamo nella foto in posa davanti appunto di uno dei suoi scatti che sono in mostra a Castel Sismondo. In taglio alto a processo per razzismo, il ristoratore viene assolto ma dovrà risarcire i clienti offesi. Le notizie di spalla, tuffi d'ottobre è come dire il sottotitolo, sa de Golvada e Bagnini restate aperti, ne vale la pena. E poi il parco del mare avanza, l'assessore Fresoni ora vogliamo i fondi del PNRR al via i lavori a Bella Riva. Ancora le notizie di spalla dal Carlino, bambine adescate fuori da scuola, perquisita la casa di un 21enne ed è allarme tra i genitori. Un richiamo nella notizia che arriva da San Marino, travolge una donna e poi scappa, fermato il pirata. In taglio basso questa iniziativa di IEG che ospita in fiera quattro aziende ucraine. E poi a Riccione e Viale Ceccarini congelati i nuovi pini. Apriamo adesso le pagine del Carlino. Partiamo da qui risarcimento in arrivo, altri quattro comuni del Riminese riceveranno gli aiuti del governo. Dicevamo la decisione che ha necessitato evidentemente di un po' di tempo per maturare, perché l'ultima visita del generale Figliolo, che è a capo del team che deve gestire la situazione post alluvione, è stata in settembre. L'annuncio dell'arrivo di questo denaro arriva da Fratelli d'Italia. E ne parla Nicola Marcello, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Dice c'è stato un intenso e proficuo lavoro con la struttura commissariale e il ministero, che ha portato a includere tra le zone alluvinate altre cinque comuni, oltre ai cinque comuni inseriti inizialmente tra i territori colpiti. I cinque comuni a cui fa riferimento Marcello, scrive il Carlino, sono San Leo, Nova Feltra, Santa Catafeltra e Casteldelci per la Valmarecchia e Montescudo, Monte Colombo, in Valconca e prosegue Marcello, dice il lavoro fatto, ha consentito di inserire tra le zone che potranno godere degli interventi del governo per l'alluvione anche aree di altri comuni. Si tratta della zona Valletta, Bella Regia Marina, compresa tra la via Egno fino ad arrivare ai confine sud a mare della Ferrovia. È stata inserita la parte di Bellaria Monte, poi che va da via San Mauro fino al confine nord e poi ha inclusa anche Poggio Toriana. Intanto l'estate in qualche modo sembra andare avanti, o comunque non vediamo ancora l'autunno e allora il sindaco scrive ai bagnini, la stagione va allungata, restate aperti se potete, anche perché ci sono ancora tanti turisti in arrivo in questi giorni. Posto che siamo di fronte a un caldo anomalo, dice Jamil Sadigolvad, è anche vero che ormai già da diversi anni questa situazione si ripete. Noi lo diciamo da anni, Rimini ha tutte le carte in regola per allungare la stagione e anche il nuovo piano spiaggia va in questa direzione. E però fa notare il Carlino, tanti bagnini quando arriva a settembre smontano direttamente tutto. C'è libertà di impresa, per carità, dice ancora il sindaco e capisco anche che non è facile organizzarsi anche col personale. Ma oggi allungare la stagione è diventata un'opportunità vera, chi sta aperto sta lavorando bene anche in queste settimane, chi non coglie questa opportunità poi non dica che non c'è abbastanza lavoro, come dire mette le mani avanti il sindaco. Intanto il Parco del Mare avanza, sono al via i cantieri a Bella Riva, ma ancora non sappiamo se avremo i fondi del PNRR, sottolinea l'assessora Frisoni, partono la prossima settimana i lavori per il nuovo tratto del Parco del Mare da Bella Riva a Marebello, anche se i finanziamenti statali restano un'incognita, risorse su cui siamo ancora in attesa di delucidazioni. Dice Roberta Frisoni, dopo la comunicazione arrivata solo ad agosto della revisione del PNRR da parte del governo che ha scelto di definanziare alcuni capitoli senza dare certezze sulle coperture. Nonostante ciò andiamo avanti nella volontà di dare continuità ad un percorso di rigenerazione che, come abbiamo potuto già vedere con i nostri occhi, contribuisce ad innalzare la qualità e la vivibilità degli spazi urbani a favore di chi vive la zona e allo stesso tempo consente di portare innovazione e valore aggiunto al nostro prodotto turistico, dice l'assessore. Andiamo alla cronaca, in primo piano in questi giorni, bambine adescate fuori da scuola, è successo prima dell'ingresso a scuola, intorno alle 7 e mezza del mattino l'altro giorno, è stata perquisita la casa di un 21enne, la polizia ha sequestrato pc e telefoni. L'indagine, scrive il Carlino, prosegue nel massimo riservo dopo l'apertura in procura di un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di violenza privata. Nel frattempo però gli inquirenti hanno già identificato una persona e hanno perquisito la sua casa, si tratta di un riminese di 21 anni. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi mobili trovati nell'abitazione, computer e cellulari. Con il supporto di un perito saranno ora scandagliati attentamente. Gli inquirenti inoltre stanno vagliando le segnalazioni fornite da studenti e studentesse che quella mattina, attorno alle 7 e 30, si trovavano nella zona di via Acquario, teatro di questi presunti tentativi di adescamento. Qualcuno avrebbe fornito una descrizione dell'uomo che si è avvicinato alle ragazzine e della sua macchina, riuscendo anche a fotografarla. I due episodi si sarebbero svolti a pochi minuti di distanza, l'uno dall'altro con lo sconosciuto che avrebbe tentato l'approccio prima con una ragazzina e poi con l'altra. Dopo averla affiancata in auto, le avrebbe invitata a salire a bordo per scattare delle foto delle loro scarpe e dei loro piedi. La prima si sarebbe allontanata quasi subito, mentre la seconda avrebbe accettato di salire in auto. Dopo pochi minuti, notando qualcosa di strano, ha iniziato ad insospettirsi e avrebbe quindi aperto la portiera di scatto e sarebbe scappata di corsa. Sono state poi le stesse ragazzine ad avvisare il personale scolastico che naturalmente ha contattato i genitori. I genitori hanno deciso di fare denuncia in questura contro ignoti. C'è anche un intervento della dirigente scolastica, dell'Ebertola Lorella Camporesi, che da poco è stata nominata alla guida di quella scuola. Dice che le due ragazze appena arrivate a scuola hanno raccontato tutto al personale che accoglie i ragazzi. La vicepreside ha quindi chiamato i genitori che hanno sporto denuncia. Come scuola abbiamo deciso di avvisare i coordinatori di classe affinché informassero i ragazzi sui comportamenti prudenti da adottare in certi frangenti. Le informazioni si sono poi diffuse sulle chat dei genitori e proprio sulle chat si era diffusa la notizia di quello che era successo a scuola già subito dopo. I fatti naturalmente è partito un po' il panico soprattutto per chi frequenta quella scuola ma non solo. Ristoratore a processo. La cronaca giudiziaria chiese scusa al duce per averci servito e ora dovrà risarcire i suoi clienti. L'episodio risale all'agosto del 2020 e è accaduto nella pizzeria ristorante La Tana Marina di Viserbella. Lì si era scatenato il finimondo, scrive il Carlino. Due famiglie originali del Senegal che stavano festeggiando il compleanno di una bambina di due anni si erano messi a discutere furiosamente con il titolare. Quell'uomo ha preso le nostre ordinazioni, poi si è girato verso un ritratto del duce appeso al muro, ha teso il braccio, ha fatto il saluto romano e ha detto scusami benito. Questa l'accusa lanciata il giorno successivo in una denuncia presentata ai carabinieri da una donna residente a Imola e zia della piccola festeggiata. Il titolare del ristorante ha sempre negato categoricamente di aver compiuto quel gesto, aver pronunciato quella frase. Sui social forse lo ricorderete si erano diffuse le immagini del litigio tra il ristoratore e i clienti e riporta un frame di quel video oggi il Carlino. Un tribunale doveva rispondere di propaganda, estigazione a delinquere per motivi di discriminazione raziale, etnica e religiosa, ma a distanza di tre anni il giudice di Rimini lo ha assolto per via della particolare tenuità del fatto, però lo ha condannato il giudice a un risarcimento che è stato quantificato in 2 mila Euro ai quali vanno aggiunti circa 3.600 Euro per le spese, le spese di lite, così si chiamano, sempre a carico dell'imputato e i legali dell'imputato hanno annunciato che faranno ricorso. Continuiamo a sfogliare le pagine del Carlino, parliamo di una mostra importante che si tiene a Castelsismondo, rivive il mito dei Queen, le foto di Inns in mostra, Freddie Mercury e Fellini erano due visionari, ha detto il fotografo. Il mito dei Queen rivive tra le mura di Castelsismondo, scrive il Carlino al Fellini Museum. La mostra fotografica Queen Unseen, Peter Inns svela aspetti inediti dell'iconica band che ha segnato la storia della musica rock e del suo frontman Freddie Mercury. I Queen che non avete mai visto è un po' il sottotitolo della mostra evento che resterà aperta fino al 30 novembre, raccontata dall'occhio fotografico di chi ha conosciuto il gruppo britannico per davvero, vivendo con Freddie Mercury e con gli altri della band. Il fotografo appunto Peter Inns che con loro ha passato oltre dieci anni. Artifici di questa esclusiva internazionale sono Gianni Chimenti, direttore artistico della mostra, insieme al figlio Nicolò, curatore e artefice di tanto materiale riguardanti Queen e lo stesso Inns, fotografo, assistente personale e grande amico di Freddie Mercury. sempre dalle pagine del Carlino, andiamo in fiera, IEG ospiterà quattro aziende ucraine in una iniziativa di solidarietà, raccoglie l'invito del ministro Urso al salone In Out, ospiterà le imprese alle prese con la guerra per rilanciare l'export. In Out è un nuovo salone del contract che si tiene a Rimini in contemporanea a TTG Eventi, TTG Travel Experience dall'11 al 13 ottobre. Saranno ospitate appunto quattro aziende ucraine, leader nei settori del tessile e dell'illuminotecnica. La ricetta per Borgomarina, più telecamere e street tutor così ci sentiremo al sicuro. La richiesta all'amministrazione di Rimini arriva dal comitato Zenta De Borg, in particolare gli assessori Magrini e Morolli, che promettono i vigilantes anche per il 2024. Andiamo adesso alle pagine di Riccione. Dicevamo, leggendo il richiamo in prima pagina dal Carlino, i pini congelati. Perché? Perché devono aspettare i nuovi pini in salotto, quindi in Viale Ceccarini e Riccione. Da lunedì saranno abbattuti, come sappiamo, 12 alberi, poi le aiole saranno pavimentate in attesa di un progetto per l'area. Di vel Carlino, Viale Ceccarini, il futuro può attendere e anche i pini. Lunedì prossimo arriveranno le motoseghe per abbattere i 12 pini pericolanti. Come da periziere date dai tecnici, serviranno almeno quattro giorni per effettuare i lavori, ma tolti gli alberi non verranno piantumati altri pini per il momento. Pare che l'attesa sarà più lunga di quanto speravano gli operatori del Viale. Da Jet spiegano di aver avuto mandato dall'amministrazione di ripristinare la pavimentazione in mattoncini, eliminando le aiole, dove ad oggi insistono le piante. La comunicazione nell'amministrazione pubblicata sulla pagina Facebook precisa che per l'esecuzione dei lavori di abbattimento saranno allestiti piccoli cantieri e spiega tutte le fasi. Questa decisione di mettere i mattoni nascerebbe dal futuro ancora non scritto del Viale e dell'intera area. La riqualifica complessiva del distretto che va dal porto canale all'isola pedonale è un pallino delle ultime amministrazioni comunali, ma sul come farlo non c'è ad oggi un progetto chiaro con obiettivi elaborati e costi. Ricordiamo che Riccione si trova in questo momento amministrata da un commissario, questo naturalmente non può che incidere. La pagina di Cattolica. La scuola Repubblica sarà demolita tra un mese, affidato al Consorzio Stabile Acreide l'appalto per realizzare da novembre il nuovo istituto di Cattolica. La sindaca assicura rispetteremo i tempi. La pagina di Bellare Sant'Arcangelo, cipolla dell'acqua, corsa per la certificazione, è un'eccellenza gastronomica di Sant'Arcangelo e dunque questo prodotto tipico viene candidato ad entrare tra i presidi Slow Food. Vogliamo servirla anche nelle mese delle scuole, dice l'assessore comunale. Infine per il Carlino un richiamo, uno sguardo anche alla pagina di San Marino per una notizia di Cronaca, pirata della strada, investe una donna e fugge. Una San Marinese di 47 anni è stata travolta a Domagnano, il giovane 24enne alla guida che non si era fermato per soccorrerla e è stato poi rintracciato dalla polizia civile. Su questa notizia ci prendiamo adesso una piccola pausa, tra poco per leggere insieme anche il Corriere Romagna. Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Oggi in Edicola, Rassegna Stampa Riprendiamo la Rassegna dalle pagine del Corriere Romagna che nel suo primo piano oggi mette il Covid con l'arrivo in Romagna delle prime scorte di vaccino per la nuova variante. In consegna alle scorte di vaccini aggiornati alle nuove varianti, priorità agli ospiti delle residenze protette, gli operatori sanitari e sociosanitari dal 16 ottobre, poi vaccinazioni per tutta la popolazione anche insieme all'anti-influenzale, anche se c'è una scarsità di dosi, quindi si partirà da categorie di persone precise. Si tratta della prima consegna che interessa l'intero territorio regionale delle quasi 650 mila dosi previste dal Ministero della Salute per l'Emilia Romagna. Si tratta della nuova formulazione di vaccino Cominerti Omicron XBB a RNA messaggero e come avrete seguito tra l'altro di questi giorni la notizia dell'attribuzione del premio Nobel agli inventori dell'uso di questo sistema dell'RNA messaggero. Questo nuovo vaccino è stato approvato da EMA e AIFA e destinato con concertazioni diverse sia agli adulti sia ai bambini dai 6 mesi agli 11 anni. A partire dal 16 ottobre sarà possibile vaccinarsi attraverso i consueti canali, medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale e nelle varie sedi individuate sul territorio in tutte le province. Vista la scarsa disponibilità di dosi, insufficiente a garantire l'immediata e adeguata copertura di tutte le categorie obiettivo della campagna vaccinale, in questi giorni si potrà iniziare a vaccinare la popolazione più fragile. E c'è anche un altro tema che si sta facendo pian piano largo, quello delle mascherine, nelle mascherine obbligatorie, per ora obbligatorie solamente a Imola, non nel resto della Romagna. Scrive il Corriere, dopo la fuga in avanti dell'Ausle di Imola che ha introdotto l'obbligo di indossare mascherine in tutte le strutture sanitarie in Romagna, si attendono le decisioni del Ministero e i provvedimenti della Regione, ben sapendo che i casi di Covid sono in aumento, sottolinea il Corriere. 147 quelli tracciati ieri tra Imola, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, ma non i ricoveri per sintomi gravi associati alla malattia. Sempre dalle pagine del Corriere, tra le notizie riminesi, anche il Corriere è la notizia di cronaca, è in primo piano la notizia di cronaca del presunto molestatore delle Bertola, sequestrati computer e smartphone, è indagato per violenza privata e si cercano altre vittime, sotto esame e supporti informatici, già lo scorso anno nel Corriere di Rimini, ragazze donne erano state avvicinate per farsi fotografare piedi e scarpe. E poi andiamo a cambiare decisamente argomento, una storia che ci racconta oggi il Corriere, Migen, il lattaio dal cuore d'oro, regalo il cibo in più ai bisognosi, è arrivato dall'Albania in gommone anni fa. All'inizio è stato aiutato da molti e è stato difficile all'inizio, sottolinea. Trent'anni originario di Albania, in Italia è arrivato appunto via mare nel primo periodo di permanenza a Rimini. Il contributo di enti come la Caritas si è rivelato indispensabile per la sua famiglia. All'inizio lavorava solo mio papà da soli, non ce l'avremmo fatta. Per questo motivo, consapevole degli avanzi che si producono quotidianamente nel suo negozio, il trentenni ha deciso di correre ai ripari. Qui c'è molto spreco, un alimentare ha sempre qualcosa da dare, tra pane, cartoni del latte, formaggi, frutta e verdura. Perché darlo per 3 euro quando puoi aiutare qualcuno che ha bisogno? Magari ne darò di meno, ma riuscirò ad accontentare più persone. La nuova lattea si serve anche di Too Good To Go, questa app per fare acquisti di cose in scadenza, ma ha deciso poi di donare una parte di ciò che resta a fine giornata, come dire, delle cose reperibili. Le state delle forze dell'ordine, 291 arresti e 1.400 denunce, questo il bilancio della stagione dal punto di vista dei controlli e degli interventi delle forze dell'ordine, ben 97.000 le persone che sono state controllate da carabinieri, finanza e polizia. Il prefetto Rosa Maria Padovano dice che abbiamo avuto un'attività forte per garantire la sicurezza, è stata un'estate impegnativa. Si parla di turismo anche sul Corriere e in questo caso dal punto di vista della ristrutturazione delle strutture. L'esempio di Jesolo, i nuovi 5 stelle traino per il restyling di tutti gli hotel. È intervenuto nel dibattito il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon e dice che una volta Rimini per noi era l'esempio da seguire, ora invece noi siamo su una fascia più alta e quindi, come dire, questo intervento è nella chiave della necessità di ristrutturare per rendere più appetibili le località. Ci sono 300 pensioncine chiuse e abbandonate nella zona del Riminese e quindi il dibattito è aperto rispetto a queste strutture e risponde il presidente regionale di Federalberghi, Giorgetti, quindi il presidente di Milano Magna e dice che il valore dei nostri alberghi è diminuito, ma per riqualificare serve l'aiuto delle banche, sicuramente per rilanciare il settore a modernare è un qualcosa di imperativo, sottolinea sempre Giorgetti. Spiaggia libera a tutti, pronta quest'estate, via le barriere, docce, servizi igienici spaziosi, sedute per il bagno in mare per chi ha difficoltà motorie. Il Corriere entra più nel dettaglio di questo progetto di cui si era già parlato, era stato già annunciato nelle scorse settimane, una spiaggia libera vicino a Piazzale Boscovici, quindi siamo nella zona della spiaggia libera. Poi un'altra storia che ci racconta oggi il Corriere, in questo caso parliamo di un professore riminese che si è giudicato il premio Prism Junior 2023 per giovani scienziati. Lui si occupa di fotovoltaico, è docente di chimica all'Imperial College di Londra e si occupa di fotovoltaico con lo studio di quelli che potranno essere le applicazioni future con nuovi sensori, potranno essere utilizzati nelle finestre e racconta il ricercatore come è arrivato all'Imperia da Rimini dopo aver frequentato il liceo scientifico Einstein, come è arrivato a Londra e poi dice il fenomeno della fuga dei cervelli all'estero indica la mancanza di una chiara traiettoria per una carriera accademica o di ricerca in Italia. Sempre dalle pagine del Corriere andiamo a Riccione, prese e ammartellate la vicina di casa, il GUP ha stabilito che non fu tentato omicidio, condannato a 3 anni e 8 mesi, il 38enne si vedrà ridurre la pena ulteriormente per la legge Cartabia. Scrive il Corriere di rubricazione del reato da tentato omicidio a lesioni personali aggravate con consistente sconto di pena. È soddisfatto l'Avvocato che oltre ad essere il difensore di fiducia è anche da alcuni anni l'amministratore di sostegno del 38enne arrestato dai Carabinieri il 30 luglio del 2022 dopo aver colpito con due martellate una vicina di casa con cui aveva avuto l'ennesima discussione e grazie a questa modifica del capo di accusa avrà l'uomo appunto un consistente sconto di pena. Un'altra storia ancora oggi sul Corriere, mettete i giovani nelle aziende, questo dico agli imprenditori, a parlare in questa intervista è Carlotta Villa, campionessa di karate, CEO di Rivera Consulting. I ragazzi hanno un approccio digitale, puntare su di noi significa fare doppio marketing, racconta la riccionese manager e sportiva. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere per un articolo che arriva da Nova Feltria, materiali radioattivi nella miniera di Nova Feltria, questa scoperta scientifica riguarda la miniera di Perticara, le rocce emettono gas radon. Matteo Giordani, ricercatore, dice il polonio non è estremamente pericoloso perché non eltrepassa la pelle e poi la particolarità qui è che il sito è privo di ricambio d'aria esterna, perciò il gas rimane accumulato all'interno e non esce, però fa impressione comunque la scoperta di questa presenza di materiali radioattivi. Chiudiamo adesso le pagine del Corriere e vi segnalo che il Corriere ha il suo consueto inserto dedicato a culture e spettacoli, in primo piano si parla di cultura, di archeologia in particolare con un resoconto di quelle che sono state le ultime importantissime scoperte in Romagna sul fronte dell'archeologia, templi, palafitte, città preromane, millenni di storia sotto i nostri piedi, venuti alla luce a Sarsina, Cervia e Rimini, importanti siti del passato, ci sarà un convegno di studi romagnoli sul tema. Uno sguardo anche all'inserto sportivo, in questo caso del Carlino, vediamo il richiamo in prima, il Rimini è quarto per reti segnate ma difende male, inizio di stagione in chiaro scuro, la squadra non fatica a trovare il gol ma subisce troppo. Questa è l'analisi che trovate oggi a pagina 5 dell'inserto sportivo del Carlino, Rimini sotto esame tra luce e ombre, c'è una fase difensiva da aggiustare per un reparto arretrato che annaspa però i biancorossi possono vantare il quarto miglior attacco del girone. C'è evidentemente una difesa da registrare e al più presto 15 reti subite in segare sono un'enormità, fa notare il Carlino. E con questa notizia sportiva chiudiamo la nostra rassegna stampa, vi ricordo che se volete alle 8.30 potete seguire anche il nostro Icaro Tg Mattina intanto dalla redazione. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.